Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monospor 07 Siamo qui con i terzini più forti al mondo ragazzi Ho fatto i terzini destri, ho fatto i terzini sinistri Considerato però che terzini destri e terzini sinistri l'ho fatto due mesi fa Quindi magari voi direte vabbè è scontato sto video No, non è scontato perché non per forza Se magari avevo messo, faccio un esempio stupido Quadrato davanti a Cancelo Adesso è stare a Cancelo davanti a Quadrato Potrebbe stare a Cancelo davanti a Quadrato in due mesi Qualcosina è cambiata e la mia classifica potrebbe essere cambiata Detto questo ringrazio il buon attore per le clip Non ci perdiamo in chiacchiere e partiamo subito col video Vamo ragazzi Decima posizione per Reguillon Reguillon che in Real Madrid praticamente ragazzi Trovate almeno sei terzini in questo top che sono stati O sono nel Real Madrid Reguillon è uno di questi Real Madrid comunque ce li ha i terzini forti Quindi per dare via a gente come Reguillon e Tornane Zaghiimi Non è che è così matta Però ragazzi Reguillon è un terzino veramente fenomenale a mio modo di vedere Ha trovato la sua dimensione all'Arsenal In questa stagione per lui 23 presenze Ha saltato molte partite Però comunque non gli hanno impedito di mettere a segno Ben 5 assist Ragazzi molto partecipa alla manovra degli sports Per me è lui il decimo terzino più forte al mondo Nono Mendy Ecco uno dei terzini del Real Madrid Un altro terzino sinistro tanto per cambiare Mendy che in stagione ha messo finora a referto 30 presenze Quindi è lui il terzino con più presenze in questa top 10 Almeno per quel che io mi ricordo E però finora 30 presenze Sono veramente veramente tante ragazzi 30 presenze per Mendy 22 in Liga, 7 in Champions, 1 in Supercoppa E 2 gol per lui Senza mettere a referto assist Ma lui è limitato dal gioco del Real Madrid Perché ragazzi lui più o meno è sulle qualità Che hanno Cancelo, Achimito, Hernandez Che hanno fatto molti più gol e assist di lui Però per me Mendy ambidestro Molto funzionale Per ogni partecipato di squadra Perché è un terzino che sa crossare Sa fare la fase rifensiva Sa fare la fase offensiva Sa impostare con entrambi i piedi Sa calciare con entrambi i piedi Sa rientrare sul destro Può giocare sia a destra che a sinistra Un terzino veramente completo Il mio modo di vedere Quindi secondo me è ampiamente sottovalutato In futuro secondo me lo vedremo magari più in alto In questa top Ma non sono nelle top di Manusport Ma nelle top in generale ragazzi Non sono nelle mie Davanti a Mendy arriva una grande conoscenza Della serie A Che è Juan Guillermo Quadrado Ragazzi Juan Guillermo Quadrado Qui un po' barato L'avrei messo molto più in alto Secondo me è da top 3 quadrado Per i numeri che ha E anche per il modo di giocare Però gioca più da esterno Che da terzino quest'anno Molto spesso ha giocato con Danilo dietro Quindi magari va a giocare più da esterno Che da terzino Però il suo ruolo Quest'anno in generale Magari ultimamente fa quello di terzino Gli ultimi tre anni Quadrado ha fatto il terzino Ma ragazzi 26 presenze e 13 assist Ha fatto più del doppio Di tutti i giocatori presenti in questa top E questo gli va riconosciuto ragazzi Più del doppio Non c'è nessun giocatore che ha fatto più di 6 assist In questa top Lui ne ha fatti 13 Fenomenale anche in fase di costruzione Settimo Carvacal Ecco lui è un giocatore che Non bisogna vedere solo i numeri Perché Comunque lui dall'inizio dell'anno Ha fatto poche presenze 12 gol 12 presenze Scusate magari per lui 12 gol 12 presenze e 4 assist Comunque un assist ogni 3 presenze Che non è troppo lontano Dalla media di Juan Guillermo Quadrado Però grande Grandissimo Terzino pure lui Soprattutto uno che è funzionale Bene in fase offensiva Perfetto in fase difensiva Ottimo in fase di costruzione Ottimo nei cross bassi Perché in Spagna si gioca molto palla a terra Si gioca molto la manovra offensiva Ottimo Nei passaggi lungoligna E un terzino veramente funzionale E a me i terzini che fanno così Mi fanno veramente impazzire Se è stato Hernandez Ecco lui è un po' meno funzionale Però c'è da dire che Tio Hernandez ragazzi È più utile alla causa Cioè nel senso Più utile Come posso dire Uno che ti vedi giocare a calcio E ti innamori Uno che invece deve fare La sua tecnica Tattica Perfetta E tutto È meglio magari Carvacal Per farlo capire Uno come Carvacal Uno come Mendy Infatti Non è un caso Che Carvacal e Mendy Siano nel Real Madrid E lui era nel Real Madrid E se ne è andato Tra l'altro Quattro giocatori su cinque Finora Sono stati nel Real Madrid Ragazzi E questo lo volevo Sottolineare Sesto Tio Hernandez Per lui cinque gole Sassi D'inizio della stagione L'avrei messo più in alto È un po' calato Soprattutto dall'inizio del 2021 Per cui davanti a lui Ci vado a mettere a Kimi Ragazzi Premessa Per me è più forte Tio Hernandez Ma in questo momento Le terzini più forti In questo momento Tio Hernandez e Kimi Sono separati da un millimetro A Kimi è più un esterno Forse Anche lui perché gioca da esterno Ma in fase ripensiva A Kimi gioca terzino Le sue puttanate Le ha fatte Così come ha fatto Le puttanate Tio Hernandez In fase ripensiva Poi in fase infensiva Ok Ha gli stessi Identici numeri di Tio Hernandez Tio Hernandez Ha fatto In trentatré partite Cinque gole Sei assist A Kimi ha fatto In trentatré partite Sei gole Sei assist Ragazzi Per il momento però A Kimi è più devastante Ha più rigore procurati E più gol sulla coscienza Diciamo così Più gol nel senso Che sono partiti da lui Davanti a loro Ci arriva uno Che aveva messo addirittura Ottavo tra i terzini Da estri Non sarebbe dovuto Figurare per niente Questa top Ma ha avuto una crescita Esponenziale quest'anno È diventato non un terzino Ma un giocatore totale Ragazzi Joao Cancelo Ok Ora noi sulla destra Abbiamo Danilo e Quadrado Che Comunque sono degli ottimi terzini Anche per il prezzo In cui sono venuti Cancelo non l'abbiamo certo Svenduto come l'Inter Ma Cancelo è venuto da noi Ragazzi Per la cifra Cioè è stato andato dal City Per una cifra vicina I 70 milioni ragazzi Quindi insomma È una cosa risaputa Per lui due gol e quattro assist Ma quanto è forte E ovunque A sinistra A destra A mezzala Un terzino spaziale Non posso ancora Metterlo in top Tre Cancelo Perché ha fatto bene Sei mesi ragazzi Bisogna vedere se continua Uno che però Fa benissimo il terzino Ormai da quattro anni Tre anni a questa parte È Andrew Robertson Questo è un po' calato nei numeri L'anno scorso Ha fatto 13 assist In tutta la stagione Quest'anno siamo più o meno A metà anno Non è troppo lontano Dagli standard dell'anno scorso Però ha fatto 37 partite Quindi uno stagano vista Un gol e 5 assist Un terzino fenomenale ragazzi Dove secondo me Solo migliorare la fase difensiva Perché in fase di impostazione E in fase di cross È veramente perfetto ragazzi Perfetto Secondo Alfonso Davis Ragazzi Lui mi stava veramente Facendo impazzire Ma io l'avevo detto In i miei scorsi video Davis è stato pompato troppo Volete sapere i suoi numeri Dell'anno scorso? L'anno scorso Davis è andato in doppia cifra Di assist E ha fatto anche qualche gol Ma soprattutto Era devastante In ogni anno lo mettevi Quest'anno un gol e due assist Molti gol Anche se non guardo la Bundesliga Mi affido A chi ne parla Molti suoi gol Sono passati dalle sue gambe E il gol subiti Parlo E quest'anno ha fatto solo Un gol e due assist In 24 partite Sono sicuro che si riprenderà Però probabilmente Non posso metterlo primo Primo è uno che anche lui è calato Appresso a tutta la sua squadra Alexander-Arnold Ma non posso mettere Alexander-Arnold Non primo Deve migliorare leggermente La fase difensiva Nonostante il Liverpool è calato Lui ha fatto un gol e 5 assist In 32 presenze Che comunque per un terzino Non sono pochi ragazzi È un gol e 5 assist Certo per il terzino Più forte del mondo In questo momento Sembrano effettivamente pochi Ma c'è da dire Che è crollato con tutto il Liverpool Se però devo prendere una squadra E ci devo mettere Il terzino più forte A destra Ma anche a sinistra In generale Il terzino più forte E Alexander-Arnold Nei cross è il migliore Per intelligenza tattica È il migliore in assoluto Solo Cancelo può essere paragonabile E in fase di impostazione Perfetto ragazzi Non c'è un terzino In questo momento per me Migliore di Trent Alexander-Arnold Detto questo ragazzi Il video termina qui Spero che il video vi sia piaciuto Se ti è piaciuto Ti invito a lasciare un mi piace Caso di contrarre un dislike Commenta se sei d'accordo Se sei d'accordo con me Se non l'hai ancora fatto Iscrivete al canale In descrizione il link Per sicuramente su Instagram Da monosport07 è tutto E noi ci vediamo in un prossimo video Grazie a tutti